Mi sembrava un gattino, non capivo se godeva, io più lo tiravo e più lo facevo e lui gemeva proprio, però smetteva di russare, mi toccava tutta la notte a tirare il lenzuolo a sentirlo gemmere e a sentirlo russare, incredibile, ha una sensibilità a sto ragazzo veramente allucinante Benvenuti su Pappetignolo